Durante la serata di Santo Stefano una pattuglia del comando stazione Carabinieri di Guglione si ha tratto in arresto una persona in flagranza di reato con l'accusa di detenzione ai fini dello spaccio di sostanze stupefacenti. Il ragazzo, un 35enne residente nella cittadina basso molisana, è stato fermato per un controllo nel centro abitato e sottoposto a perquisizione. I militari hanno riscontrato che il giovane portava al seguito una cospicua somma di denaro, circa 900 euro in banconote di piccolo taglio, e insospettiti hanno deciso di estendere la perquisizione anche presso l'abitazione. In casa i militari occultati in un mobile della cucina hanno rinvenuto complessivamente 40 grammi di eroina, 1,70 grammi di cocaina suddivisa in quattro dosi, un bilancino digitale di precisione e due coltellini con tracce riconducibili verosimilmente a sostanza stupefacente. Effettuati i primi accertamenti per appurare la natura della sostanza, il 35enne è stato condotto in caserma e dichiarato in arresto con l'accusa di detenzione ai fini dello spaccio. Lo stesso è stato associato poi presso il carcere di Larino a disposizione dell'autorità giudiziaria. Mancano pochi giorni alla gara di ciclocross prevista nella mattinata del 4 gennaio al parco comunale sarà un evento speciale per il parco che si trasforma in una pista d'eccezione per un'importante competizione. La gara rientra nel calendario nazionale come challenge quarta prova per l'assegnazione del trofeo dei tre mari che il presidente Angela Mustilio della società organizzatrice ciclistica Santimotio aveva già annunciato. La manifestazione sportiva vedrà alla partenza oltre 130 ciclisti e le prime iscrizioni già sono state acquisite prima della festa di Natale ed è l'ultima gara prima dei campionati italiani che si svolgeranno a Pezze di Greco in Puglia. Ad agliettare l'evento ci sarà un famoso ciclista professionista Stefano Pirazzi al fiere della società Bartriani vincitore della classifica Scalatori al Giro d'Italia 2013 e di una tappa al Giro d'Italia 2014.